Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del Tg6 che apriamo con la cronaca, pedinato per due mesi dagli uomini della Guardia di Finanza di Pescara e infine posto ai domiciliari, scoperto a Pescara un vigile urbano che invece di lavorare trascorreva le sue giornate al bar con gli amici o a pesca. Vediamo il servizio di Affredo Primante. Era addetto al controllo ambientale ed ecologico del Parco d'Avalos di Pescara, invece passeggiava lungomare, andava a pesca con gli amici oppure trascorreva le sue giornate lavorative al videopoker o in agenzie di scommesse. Questa volta protagonista dell'ennesima storia da iscrivere nel libro dei furbetti del cartellino è un vigile urbano di Pescara seguito per due mesi dagli uomini della Guardia di Finanza. Il 55enne maresciallo della Municipale timbrava il badge personale nel palazzetto dello Sport di Via Elettra oppresso l'Aurum contravvenendo alla disposizione di servizio che gli imponeva di timbrare presso la sede del comando della Polizia Municipale di Pescara e poi, lasciando la divisa d'ordinanza a casa, si dedicava ad altre attività. Secondo i tabulati di presenza, il maresciallo era sempre in servizio dal lunedì al sabato per l'intero turno lavorativo ma, secondo le fiamme gialle, solo sulla carta. Il sottoufficiale, infatti, sempre stando alle indagini della Guardia di Finanza, durante tutto il periodo di monitoraggio non avrebbe dedicato all'attività lavorativa neanche un'ora pur avendo regolarmente indicato la propria presenza sul lavoro e percependo l'intero salario di 1.600 euro. Ieri, al termine delle indagini, i finanzieri del nucleo di Polizia Tributaria di Pescara hanno notificato al maresciallo della Municipale Pescarese l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Chieti, Luca De Ninis. Per il vigilo urbano i reati contestati sono truffa pluriaggravata per essere commesse in danno di ente pubblico e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione. Su questa vicenda ci sono le dichiarazioni del sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ho appreso con disappunto dell'arresto dell'agente della Polizia Municipale per assenteismo e ho chiesto al comandante Carlo Magitti spiegazioni in merito a questa vicenda. Se le accuse verranno confermate, ha detto il primo cittadino, saremo di fronte ad un caso grave su cui sarà la magistratura a fare chiarezza, dal canto nostro non possiamo che avallare la tolleranza zero verso simili situazioni. Il Comune attiverà, ha detto ancora Alessandrini, tutte le procedure amministrative e disciplinari previste dalla nuova normativa per il caso di specie. Chi sbaglia paga, ritengo doveroso che chi ha un lavoro a maggior ragione in un ente pubblico abbia l'obbligo di espletarlo, dunque di essere a servizio dell'ente e della comunità come il suo contratto richiede e finché tale contratto lo impegna. Questo si aggiunge, il fatto, ha detto ancora il sindaco di Pescara, che viviamo tempi durissimi in cui una delle peggiori emergenze è proprio quella occupazionale, che ha un lavoro dovrebbe se non amarlo, quantomeno ritenersi fortunato e non autorizzato a scaldare una sedia o nella peggiore delle ipotesi a disertarla per dedicarsi ad altro durante gli orari che lo vincolano per contratto. E parliamo ora di sanità. Questo pomeriggio si svolgerà il Consiglio regionale straordinario sulla sanità richiesto dalle opposizioni. Sempre oggi arriverà l'ufficialità dell'uscita dal commissariamento della Regione Abruzzo. Dopo il tavolo di monitoraggio, il Consiglio regionale dunque tornerà sovrano sulle scelte in materia di sanità. Filippo Tronca L'Abruzzo, la prima regione d'Italia ad uscire dal commissariamento della sanità dopo nove anni di tagli, economie e ristrutturazioni anche molto dolorose. A ratificarlo il tavolo di monitoraggio del Governo al termine di una seduta a fiume conclusa si ieri sera a Roma, poco prima della mezzanotte. L'annuncio ufficiale è oggi pomeriggio in conferenza stampa da parte dell'assessore alla sanità Silvio Paolucci. La conseguenza sarà che il Consiglio regionale tornerà sovrano nelle scelte sulla sanità, prima centrate nelle mani del commissario Luciano D'Alfonso. Un assaggio di cosa questo potrà anche significare oggi pomeriggio all'emiciclo, dove in programma il Consiglio straordinario proprio sulla sanità. Il centrodestra è pronto a ribadire che il piano di riordino della rete sanitaria è pura macelleria sociale. L'opposizione del Movimento 5 Stelle è pronta invece a dare battaglia contro il project financing della Maltauro per realizzare il nuovo polo ospedaliero di eccellenza di Chieti, ritenuto dai pentastellati un pessimo affare per le casse regionali. Non è un mistero che il piano sanitario del resto crea attriti anche dentro la maggioranza, ma il capogruppo PD, Sandro Mariani, considera comunque un passo in avanti molto importante l'uscita dal commissariamento, anche per migliorare ulteriormente il piano di riordino. Esulta anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Di Pangrazio che difende il piano sanitario nei suoi contenuti, mettendo in guardia dalle critiche che nascono solo da anacronistici campanilismi. L'uscita dal commissariamento non è stata solo un'operazione ragionieristica, ma è stata un'operazione accompagnata con un nuovo piano sanitario che può garantire le eccellenze laddove devono stare, ma sicuramente una medicina territoriale che salva la vita dell'immediato. Immagino quindi che i cittadini siano contenti, soprattutto non solo per il ritorno all'autonomia sull'attività sanitaria della Regione Abruzzo, ma anche soprattutto perché il livello all'attenzione, ma soprattutto alla cura della salute dei cittadini sta aumentando. Questo vuol dire che bisogna raggiungere sempre di più quella linea ideale che è un livello di qualità eccezionale per la cura della salute dei cittadini a costo giusto. Restiamo in argomento perché si è svolto questa mattina a Teramo, presso la sede della ASL, il vertice sul piano di riqualificazione del servizio sanitario alla presenza, tra gli altri, dell'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci e della direzione dell'azienda sanitaria locale di Teramo, Elisa Leuzzo. Si tratta di un piano sanitario che vuole elevare il know-how degli operatori e con esso la qualità delle prestazioni, puntando all'esito delle cure per quanto riguarda i cittadini. Non si tratta di alcun taglio, il numero dei posti letto rimane invariato, anzi subisce qualche piccolo incremento, per cui non si tratta affatto di tagli, si tratta soltanto di dare giustamente a mio avviso vocazione ad ogni struttura sanitaria per concentrare specializzazione e qualità. Gli accorpamenti, se parliamo dell'area medica e l'area chirurgica, sono soltanto dovuti al fatto che c'è un operatore, ad esempio un infermiere o un operatore sanitario, che per quanto riguarda l'area chirurgica può occuparsi sia del reparto di chirurgia che di ortopedia. Se si vuole mantenere un reparto che abbia 10 posti letto di chirurgia e 10 di ortopedia, un operatore può lavorare su ambedue i reparti senza alcuna difficoltà. Noi ieri, tra le varie notizie molto positive che abbiamo avuto, abbiamo avuto un'adempienza lea storica per la regione Abruzzo sulla rete di emergenza urgenza, che non vi era mai stata nel passato di questa regione e quindi il contrario di quanto viene detto e quanto viene rilevato dal Ministero della Salute. Inoltre abbiamo un incremento sui livelli essenziali di assistenza nel 2015, noi aumenteremo e anche notevolmente il risultato del 2014 che era già di adempienza e in appena due anni noi siamo passati dai 146 punti lea che abbiamo ereditato con ogni probabilità oltre 175 punti lea. Alla richiesta dei sindacati cosa risponderà? Chiederò ovviamente che tutte le autorizzazioni che abbiamo attivato abbiano una loro scioltezza. Per quanto riguarda invece il confronto si avverterà anche sui numeri che ho dato prima, ovvero noi abbiamo un certo valore della produzione e un certo costo di quei valori della produzione, sono disposto a patto che ci siano due ulteriori passaggi. Uno, la ASL ha tre capitoli di spesa, la farmaceutica, il personale e i beni e i servizi e quindi non può sforare su altre due voci per poi ritenere che occorre lo sforamento anche sulla terza voce, recupera sulla farmaceutica e sui beni e i servizi e può donare qualcosa in più sul capitolo del personale. Ai sindacati dico lavorate sulle 104 e le prescrizioni perché non è giusto che nel pubblico e nel mondo pubblico le 104 e le prescrizioni a vario titolo sono anche 10 volte superiori a quello privato. Ancora sanità, migliore assistenza agli autistici da parte della regione. Quanto chiesto all'assessore Paolucci ai margini proprio del vertice sul piano sanitario che si è svolto questa mattina a Teramo. A margine della conferenza stampa sulla sanità con la presenza dell'assessore regionale Silvio Paolucci qui a Teramo, il vostro presidio tra virgolette per l'autismo, l'assistenza all'autismo. Avete fatto delle domande all'assessore Paolucci, vi ha soddisfatto la risposta? Sì, ci ha soddisfatto perché continua l'assessore a prometterci azioni specifiche per l'autismo. Adesso vogliamo cogliere questo momento particolare per cominciare a vedere gli effetti perché finora le parole sono state dette tante, però l'efficacia finora è assolutamente inesistente. Però siamo ancora fiduciosi. Adesso anche con l'incontro che abbiamo avuto questa mattina con il dottor Fagnano c'è la volontà di accelerare in maniera netta sia per l'avvio del centro di Sant'Atto che è un punto storico dell'autismo qui a Teramo da anni ma anche replicare l'esperienza in Val Vibrata dove ci sono decine di famiglie che hanno l'autismo. La caratterizzazione dei servizi assistenziali, dei setting assistenziali permette a ciascuno di loro di essere eseguito nel miglior modo e nei punti specifici ma non esclusivamente in delle strutture rigide ma anche nella vita quotidiana, magari all'interno di centri sportivi, all'interno delle università per quelle d'alto funzionamento e così via. Sostanzialmente quindi la richiesta è quella di aprire un centro in Val Vibrata? Sì, per sopperire alla mancanza in quanto dopo gli 11 anni questi bambini vengono dimessi e quindi non hanno più logopedia e psicomotricità e noi genitori andiamo alla ricerca di terapisti a pagamento quindi con grandi difficoltà. L'aspetto drammatico è che siamo proprio abbandonati a noi stessi quindi si chiede proprio questo, cioè di poter proseguire questo percorso venendo seguiti da strutture specializzate. Torniamo alla cronaca, il fotografo Marrocchi ed il giornalista Minucci sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di tentata estorsione attraverso documenti scandalistici. Vediamo il servizio. Una vicenda assurda e sgredevole è arrivata finalmente ad un primo approdo positivo. Questo è il commento della senatrice Stefania Pezzopane in riferimento al rinvio a giudizio di Gianfranco Marrocchi, fotografo e Marco Minucci, giornalista, insieme ad altre persone per tentata estorsione e danni della senatrice nell'ambito della vicenda sui ricatti e politici. Un tentativo squallido di denigrarmi e danneggiarmi che si inquadra in una vicenda ben più complessa in cui sono stata coinvolta anche con altre figure politiche dice la senatrice come l'ex presidente della regione Gianni Chiodi. Addirittura in qualche intercettazione gli imputati esprimono l'intenzione di coinvolgere anche Giovanni Legnini. Nelle intercettazioni i due esprimono l'intenzione di demolirmi politicamente, dice Stefania Pezzopane di distruggermi con storie assurde e ricatti, foto taroccate addirittura con il coinvolgimento di altre persone in particolare di una donna che avrebbero voluto utilizzare coinvolgendo Simone per colpirmi. Attendo ora serena l'evoluzione del provvedimento giudiziario La Pezzopane inoltre si interroga sulla gravità della vicenda e se gli imputati abbiano agito per conto proprio o se dentro un disegno che vede il coinvolgimento di qualche avversario politico o di una stampa, dice la Pezzopane abituata agli scandali inventati di sana pianta. E parliamo ora di banche. Il Tribunale Civile di Chieti ha infatti dichiarato lo stato di insolvenza di Carichieti. Intanto oggi termina la possibilità di avanzare offerte di acquisto per la nuova Carichieti nata dopo il salvataggio da parte del Governo. Nel giorno in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte di acquisto della nuova Carichieti e delle altre tre nuove banche nate dopo il salvataggio da parte del Governo, per il vecchio istituto di credito teatino si aprono le porte e dello stato di insolvenza. Infatti il Tribunale Civile di Chieti ieri ha emesso la sentenza per la Cassa di Risparmio in liquidazione coatta amministrativa. I magistrati però, nelle 62 pagine con cui argomentano la decisione, esprimono riserve sulle valutazioni presenti nella documentazione prodotta da Banca d'Italia e dai commissari straordinari che hanno guidato la Carichieti prima dell'intervento di risoluzione lo scorso novembre. Secondo i magistrati, il crack è stato dovuto sia alle perdite circa 150 milioni di euro nel biennio 2014-2015, ma avrebbe influito in maniera pesante la svalutazione finale sui 243 milioni di crediti per i quali il Tribunale però non è stato in grado di fornire una valutazione di congruità perché, scrivono i giudici, le richieste del Tribunale sono rimaste sostanzialmente in evase. I giudici quindi si sono dovuti basare sulle conclusioni sui dati forniti da Banca d'Italia e dai commissari arrivando così a dichiarare lo stato di insolvenza richiesto proprio dall'autorità di vigilanza. Dunque l'insolvenza è stata dichiarata a seguito dell'operazione di risoluzione che ha trasferito la parte sana della banca nella nuova entità oggi offerta al mercato. Infatti i giudici scrivono che in atti non vi sono elementi che consentano di affermare l'esistenza dello stato di insolvenza al momento dell'avvio della risoluzione. Al di là dei tecnicismi, il tutto potrebbe rappresentare un punto a favore della difesa dei vecchi amministratori di Carichietti Roberto Sbrogli, Ennio Melena, Giuseppe Di Marzio e Giuseppe Di Martino che si erano opposti alla richiesta di stato di insolvenza. Ma quindi Carichietti poteva essere salvata. Per i commissari servivano 150 milioni di euro di ricapitalizzazione che non arrivarono mai né dalla fondazione né da altri finanziatori come Banca Intesa, BCC Roma, Popolare di Bari o Fondazione Pescarabruzzo. Un azionista nuovo avrebbe dovuto, sempre secondo i commissari, portare soldi freschi e recidere il filo degli interessi localistici nella gestione della banca. E noi torniamo a Teramo dove questa mattina c'è stata la visita istituzionale del nuovo questore di Teramo Enrico De Simone al procuratore della Repubblica Antonio Guerriero. Procuratore, oggi l'incontro con il neo questore di Teramo un curriculum importante alle spalle a cui chiede la collaborazione. Sono lieto della presenza del signor questore di Teramo che confido naturalmente nelle sue eccezionali capacità professionali e quindi riuscirà sicuramente a dare impulso all'attività della questora di Teramo continuando il lavoro incommiabile fatto dal suo predecessore. e quindi sono certo che la sinergia tra la magistratura e la questura di Teramo che già esiste si continuerà se non si accrescerà ulteriormente. Pochi giorni a Teramo, l'incontro oggi con il procuratore che tiene molto alla collaborazione tra le forze dell'ordine. Assolutamente sì e io voglio ringraziare proprio pubblicamente il procuratore per questi attestati di stima ma soprattutto per gli attestati di stima che ha avuto nei confronti della Polizia di Stato e anche del mio predecessore. Sicuramente raccolgo l'invito a una massima collaborazione e per noi è importante avere questo punto di riferimento stabile nella Procura della Repubblica che per noi rappresenta un esempio da seguire e da seguire nelle direttive che ci verranno di volta e volta impartite soprattutto in questo momento in cui i reati sono tanti da reprimere nella zona costiera soprattutto e sono anche stimolato dal fatto che il procuratore viene anche da una lunga esperienza di contrasto alla criminalità organizzata e quindi per noi è sicuramente anche un esempio da seguire. E da oggi la protezione civile di Teramo avrà in dotazione un mezzo Elfo 4.0 cingolato per arrivare nelle zone più impervie della nostra regione e spegnere così incendi. La regione Abruzzo tra le associazioni di volontariato ha scelto proprio il Cives in provincia di Teramo. Vediamo. Siamo orgogliosi di avere l'assegnazione per il 2016 di questo mezzo, l'unico nella provincia di Teramo. È un mezzo particolare, noi lo chiamiamo, lo abbiamo sovranominato la piccola peste. È un, non è nient'altro che un mulo meccanico che permette di raggiungere ogni località. È un mezzo elio trasportabile. Nella malagurata ipotesi che dovessero accadere degli incendi boschivi in zone impervie, laddove prima si attendeva che bruciasse il bosco con opere soltanto di circoscrizione, in questo momento siamo in grado invece di operare, non appena le fiamme si sono abbassate, per opera dei mezzi aerei, con questo mezzo speciale. Oggi annoveriamo ben 20 volontari in possesso dell'attestato AIB secondo livello. È un termine tecnico, ma sono volontari che sono stati formati e hanno l'idoneità fisica e tecnica per stare sul fronte del fuoco. Ricordiamo quanti volontari conta la CIVES. La CIVES conta 54 volontari e ben 5 hanno partecipato al corso di operatori ELFO, un corso molto impegnativo con lezioni teoriche e pratiche, un esame finale davanti a una commissione composta da dirigenti regionali, tecnici regionali e comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato. Tra le ultime operazioni effettuate dalla Protezione Civile in questo 2016? Proprio l'ultima è stata l'alluvione di Pineto. Devo dire che 12 ore prima stavamo spegnendo un incendio a Notaresco. Lo stesso mezzo che è intervenuto per spegnere l'incendio di Notaresco, la mattina dopo ha attaccato il carrello con la motopompa e tutta la giornata di venerdì abbiamo operato per svuotare i sottopassi e soccorrere la popolazione colpita dall'alluvione. Nel prossimo servizio parliamo del piano di contenimento dei cinghiali in provincia di Teramo. Vediamo. Si sono concluse le prime due fasi del piano di contenimento dei cinghiali predisposto dalla provincia di Teramo assieme all'ATC Vomano e a quello Salinello. Oltre il 90% dei 294 capi previsti è stato abbattuto. Questi dati presentati dal presidente della provincia di Teramo Renzo di Sabatino assieme ai vertici delle ATC Franco Porrini e Francesco Sabatini. Risultati che sono stati giudicati soddisfacenti anche sul piano dei rimborsi per i danni alle coltivazioni. La provincia di Teramo infatti è stata l'unica in Abruzzo ad aver già liquidato tutti i danni del 2015. Sulle 313 domande arrivate 286 sono stati giudicati a 20 diritto rimborsati al 67% del danno. Una percentuale di rimborso che è quasi raddoppiata rispetto al 2014. Concluderemo sicuramente, supereremo il 100% degli obiettivi con l'ultima fase che si terrà nel mese di settembre. Quindi un risultato importante. I cacciatori hanno un ruolo sociale sul territorio che in questo caso è fortemente dimostrato con anche l'abbassamento dei danni alle culture agricole. Un piano quinquennale che si era proposto dall'anno scorso l'abbattimento del 50% dei danni nei 5 anni. Pertanto l'anno scorso abbiamo operato bene, quest'anno stiamo operando anche bene. Ci auguriamo di raggiungere questo obiettivo anzi prima dei 5 anni, sicuramente molto prima dei 5 anni. Un'altra cosa vorrei aggiungere per quanto riguarda il piano di controllo delle volpi. Che la provincia di Teramo insieme agli ATC ha portato avanti nel mese di marzo ed aprile. C'erano stati due ricorsi al TAR da parte di sei associazioni ambientaliste e per la prima volta forse l'unica provincia di Teramo che è riuscita a vincere questi ricorsi in quanto non è stata concessa la sospensiva né al primo ricorso né al secondo. E pertanto il piano di controllo dei volpi andrà avanti. Volpi che erano malate così come sono state certificate dall'Istituto Zooprofilattico. Apriamo l'ampia pagina degli eventi. Partiamo da Sant'Egidio alla Vibrata dove c'è stata davvero grande folla per il concerto di Albano Carrisi che ha riproposto i più grandi successi dei suoi 50 anni di carriera. Nel mondo dello spettacolo siamo abituati ad avere delle meteore. Poi ci sono i mostri sacri. Ne abbiamo uno qui a Sant'Egidio alla Vibrata in occasione della prima Sagra del Contadino. Albano Carrisi che ha raggiunto l'Abruzzo grazie intanto di essere qui. Gli organizzatori della Sagra del Contadino hanno pensato bene di chiamare un vero contadino che canta. Sono onorato di stare qui semplicemente perché so di stare in mezzo a degli amici, so di parlare un linguaggio che capiscono e soprattutto parlare lo stesso tipo di linguaggio. Il canto d'amore con felicità ci sarà. Tanti brani che hanno raccontato un pezzo dell'Italia che è stata, l'Italia degli anni Ottanta. Io da artista mi auguro che ne nasca un altro 4 o 5 di quel genere lì perché è un evergreen e appena partono le prime note, in qualsiasi parte del mondo succede il finimondo, dalle prime note. E ancora oggi, dopo sono già 34 anni che esiste questa canzone Felicità, ancora oggi fa lo stesso effetto come ieri, come l'altro ieri, come 30 anni fa. È fantastico e ripeto in tutte le parti del mondo. Lei è ambasciatore della musica italiana, quindi porterà l'Italia nel cuore e soprattutto nel bel canto, quello firmato Albano Carrisi. Quello che faccio da 50 anni, 50 anni di carriera dove buona parte del mio tempo l'ho speso all'estero. Quando il sole correrà, è il sole mio tempo l'ho speso all'estero. Il primo agosto a Francavilla in piazza Sant'Alfonso ci sarà il concerto di Antonello Venditti. Nell'estate dei grandi appuntamenti estivi di Francavilla, non poteva mancare il concerto del primo agosto, piazza Sant'Alfonso ospiterà Antonello Venditti, un grande nome della musica italiana che non ha bisogno ovviamente di presentazione. Siamo orgogliosi di annullare questo concerto, come sempre dai problemi nascono opportunità. Era prevista la data degli Air Twin and Fire, ci siamo trovati in mezzo in questi giorni tra due gruppi che litigano tra di loro per l'utilizzo di questo nome. A quel punto abbiamo deciso di cambiare completamente strategia, abbiamo avuto l'occasione di avere una colonna, un colosso della musica italiana qui a Francavilla che è Antonello Venditti, abbiamo colto l'occasione a volo. Quindi il primo agosto vi aspettiamo in piazza Sant'Alfonso con Antonello Venditti in concerto. Gratuito per tutti, sarà una serata veramente indimenticabile per Francavilla. A proposito di grandi eventi, poi ci sarà l'altro importante appuntamento, quello di dopo Ferragosto con la festa di San Franco. Sì, gli appuntamenti sono tantissimi, ci sarà cena con gli artisti, ma c'è anche il Blue Bar con De Gregori e tanti altri, c'è il Carnevale estivo, Francavilla ogni sera offre almeno due o tre incontri per divertimento, cultura, arte, per tutto quello che si vuole fare. Senza dimenticare il concerto principale che è quello del 17 agosto con Elio e le storie tese che saranno in piazza Stazione. Quindi un calendario veramente ricco che si può seguire anche sul sito dedicato di Visit Francavilla al Mare e vi invitiamo numerosi. E ora parliamo di arte perché è stata inaugurata Oro Museo a 16, la mostra internazionale dedicata al mosaico contemporaneo allestita a Villa Paris di Roseto degli Abruzzi. 35 artisti in rappresentanza di 13 nazioni e 4 sezioni speciali, ragazzi di bottega con 7 mosaicisti che hanno frequentato il laboratorio d'arte del maestro rosetano Bruno Zenobbio e poi la sezione VART, Total Contemporary Art, SML Spring Mosaic Lab con 200 piastrelle realizzate dagli alunni delle scuole medie di Roseto ed infine il consueto tributo a un mosaico per tornareccio. E il menù ricchissimo dell'edizione 2016 di Oro Musiva che si potrà ammirare fino al 30 di ottobre nella bella cornice di Villa Paris a Roseto degli Abruzzi. Musiva si trasforma anche in associazione per la formazione dei bimbi e appunto durante questa primavera è stata coinvolta tutta la primavera di Roseto degli Abruzzi in un corso di mosaico che ha permesso di produrre più di 200 piastrelle che oggi sono in mostra qui e che fanno compagnia alle opere di maestri di livello internazionale. Inoltre ogni martedì di fine mese alle ore 21 e 30 si terrà il martedì d'autore, una visita guidata alla mostra con l'intervento di un artista per conoscere da vicino l'arte espressiva del mosaico. Portare Musiva qui dopo che questa mostra è stata realizzata è fatta al Palazzo Medici Riccardi di Firenze, quindi una location importantissima. Non è solo una mostra come si vede ma è anche lavori che sono venuti fuori attraverso ragazzi della mia bottega. Andiamo avanti ancora con gli eventi perché torna il Festival Arte in Canto diretto dal maestro Luciano Di Pasquale dal 21 luglio al 7 agosto nella cornice delle chiese e delle piazze più suggestive di Basciano, Penna Sant'Andrea e Cermignano la nona rassegna di musica lirica è promossa dall'associazione culturale Il Cantiere delle Arti in collaborazione con l'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano e del Consorzio BIM di Teramo. Dal 21 al 7 agosto nella cornice delle chiese e delle piazze più suggestive di Basciano, Penna Sant'Andrea e Cermignano torna Arte in Canto. La nona rassegna di musica lirica è promossa dall'associazione culturale Il Cantiere delle Arti in collaborazione con l'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano e del Consorzio BIM di Teramo. Per noi è un grande onore ospitarlo all'interno del territorio dei comuni della vallata del Medio Vomano e del comune di Basciano in particolare. Basciano come sempre sarà tra i protagonisti e stiamo cercando di aiutare e di fare quanto più possibile per questa valida iniziativa culturale perché pensiamo che questo tipo di iniziative culturali vadano quanto più sovvenzionate. Come ogni anno iniziamo con i due concorsi internazionali, c'è il concorso a ruoli, quest'anno l'opera concorso è la Rita di Donizetti, il secondo concorso è il concorso a premi e il pubblico che parteciperà alla finale del concorso a Basciano il 23 luglio del 21 praticamente potrà esprimere la propria preferenza tra i finalisti del concorso. Il secondo impegno evento sarà il 24 a Cerminiano, nella splendida cornice dell'ex Palazzo Tartagliozzi. I vincitori del concorso si esibiranno con arie tratte dal repertorio italiano e internazionale. Il 25 luglio metteremo in scena la serva padrona alle 21 alla sala polifunzionale di Penna Sant'Andrea. Il 2 agosto i ragazzi che avranno partecipato al corso di perfezionamento di canto lirico si esibiranno nella chiesa di Basciano San Flaviano. Il festival si concluderà come ogni anno a Basciano in portapenta alle 21 del 7 agosto appunto con la rappresentazione dell'opera concorso alla Rita di Donizetti. Ed ora ci spostiamo nel Pescherese, in particolare all'Oreto a Prutino dove l'associazione culturale Barabba Sound ha organizzato per il prossimo weekend una rassegna intitolata Allo Park. Vediamo il servizio dei colleghi di Vestina News. L'associazione Barabba Sound per il secondo anno consecutivo organizza delle giornate commemorative per Massimiliano Chiavaroli un ragazzo dedito alla musica e alla compagnia. Siamo qui con Daniele. In che modo quest'anno volete ricordarlo? Quest'anno abbiamo organizzato una tre giorni con una kermesse musicale molto varia e il venerdì partiremo con una serata dedicata alla Barabba Sound e infatti è una serata di supporto con dei nostri amici già conosciuti sul nostro percorso musicale e un gruppo di nostri amici di Loretta Prutino. Il sabato continueremo con del rap e del funky con gruppi da tutta Italia, da Firenze e Milano e poi chiuderemo la domenica con un gruppo abruzzese dedito al folk blues americano e sono i Dago Red. Ci saranno anche stand gastronomici e un piccolo mercatino musicale con cd, vinili e strumenti. La partenza è prevista per le 4 di pomeriggio e la chiusura intorno alle 1 e mezza alle 2 di notte. Siamo alla pagina dello sport, il calcio, per parlare del Pescara che ha praticamente chiuso per l'arrivo in bianca-azzurro del difensore croato Lescovic che arriva dal Rieca firmerà nelle prossime ore un contratto di 5 anni con la società adriatica intanto c'è attesa per la prima uscita ufficiale del Pescara del nuovo Pescara di Massimodo che questo pomeriggio alle 17 affronterà a Palena una selezione locale. Vediamo il servizio. Lescovic è un giocatore del Pescara la società adriatica e quella croata del Rieca hanno infatti chiuso l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo del 25enne difensore in Riva all'Adriatico il Pescara sborserà 2 milioni di euro più bonus per il talentuoso atleta che si lega al Delfino per 5 anni salta almeno per il momento invece la cessione di Dario Zuparic al Frosinone anche perché il tecnico Massimodo avrebbe dato parere negativo in Ciociaria andrà invece entro la settimana l'attaccante Andrea Cocco che ritroverà in terra laziale il suo ex tecnico di Vicenza Pasquale Marino sulle fronte cessioni la Sampdoria pensa sempre a Verre ma i 6 milioni di euro richiesti dalla società bianca azzurra tengono i blu cerchiati a distanza il sindaco Marco Sanzovini è pronto a dire sì al Teramo l'attaccante 36enne allungherà il contratto con il Pescara e poi una volta terminata la carriera entrerà nei ranghi della società adriatica in bianco rosso andrà in prestito fino al prossimo 30 giugno come anticipato ieri il giovane difensore classe 97 Milillo va a Teramo ma sponda San Nicolò e questo pomeriggio alle 17 a Palena prima uscita ufficiale per i bianca azzurri che affronteranno la formazione dilettantistica locale infine sul fronte abbonamenti si viaggia spediti verso le 4000 tessere dunque Marco Sanzovini il nuovo attaccante del Teramo ieri l'accelerazione nella trattativa con l'attaccante che prolungherà il contratto con il Pescara la firma potrebbe arrivare questo pomeriggio e subito dopo il giocatore raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro di Ovindoli ma per saperne di più vediamo il servizio che è stato curato da Jacopo Forcella stavolta sarà davvero la volta buona Marco Sanzovini infatti non è mai stato così vicino a sposare il progetto Teramo da Cremona in Biancorosso via Pescara già il Pescara la società di appartenenza del sindaco che gli aveva proposto di allungare il contratto in scadenza nel 2017 per altre due stagioni spalmando il compenso che Sanzovini avrebbe dovuto percepire aumentato del bonus per la promozione in Serie A una proposta valutata con attenzione dal centravanti che si è preso qualche giorno di tempo per riflettere e decidere se quella fosse la soluzione migliore per lui ieri l'accelerata con i contatti sempre più insistenti nel corso di una giornata frenetica nella quale Sanzovini fa sapere che per lui è tutto a posto non ci sono problemi e aspetta di poter vestire il biancorosso col Teramo che nel frattempo aveva annunciato da poche ore Lucaforte già in ritiro dovindoli oggi pomeriggio a Pescara incontro tra il giocatore e il suo agente la società biancazzurra e il Teramo che in questi giorni era rimasto alla finestra con l'attaccante che aveva dall'inizio comunque detto sì alla proposta della società del presidente Campitelli poi dovrebbe essere la volta delle firme sui contratti col giocatore che stasera o al più tardi domattina dovrebbe aggregarsi ai nuovi compagni di squadra adesso il reparto avanzato è composto da Croce Petrella, Forte e Sanzovini sono in quattro e con caratteristiche differenti o meglio solo Croce e attaccante di struttura ma dopo una riflessione attenta tra società e allenatore il mercato davanti potrebbe essere chiuso qui insomma Sanzovini inizia una nuova avventura di nuovo in Abruzzo dove ha fatto vedere il meglio di sé l'auspicio dei tifosi del Teramo è che regali le stesse soddisfazioni che ha già regalato in bianco azzurro e noi ci fermiamo qui per la prima edizione del TG6 vi ricordo la seconda alle 19 grazie e buon proseguimento di giornata grazie a tutti